E quindi questa lotta noi la portiamo avanti e la porteremo sempre avanti finché non si risolve la situazione. La musica serve a questa, a unirci anche tra di noi e a combattere sempre perché i bambini non muoiono più. A Taranto come in altre città, non c'è solo Taranto in Italia. Ci sono delle realtà pazzesche come Cela, come Chirra in Sardegna dove c'è il poligono militare, dove si muore per l'amianto, dove si muore per i proiettili all'allunario impoverito. E l'Italia ha bisogno di pulizia mentale e pulizia veramente nel cuore. Soprattutto mi rivolgo, lo ridico ai politici, a me non mi interessa chi sale al governo, mi interessa che si riposano e fanno le cose. La cultura serve a questo per me, io ho sempre fatto questo lavoro perché ho fatto l'operaio per 15 anni ed ero stufo di vedere gli operai trattati così, massacrati, come diceva Rino Gaetano, mio fratello è figlio unico. E allora questo figlio unico deve diventare fratello di tutti perché si possano risolvere tante situazioni contro lo sfruttamento anche degli operai mal pagati, sfruttati, derubati. Per vedere poi i conti di questi sporchi, maledetti affaristi a Panama. E non se ne può più, questa gente deve morire, deve sparire.